Duccio Forzano per il secondo anno di fila al timone, alla regia di Musi Cultura un'edizione e presenta tanti ambiamenti a partire dal regolamento alla conduzione ma per te quali sono i ambiamenti di questo secondo anno? Io cerco indipendentemente dal contenuto del regolamento che diciamo egoisticamente non mi acchiappa da vicino è quello di cercare di trovare un'evoluzione dal punto di vista fotografico e registrico e devo dire che quest'anno un passo in avanti è stato fatto liberando il palco che sembra più grande ma solo perché non è occupato da americane che per esempio l'anno scorso invece erano molto invasive dal punto di vista proprio fisico e per quanto riguarda il resto abbiamo mantenuto lo stesso assetto fotografico dal punto di vista appunto frontale e delle telecamere. Lei ha lavorato con tantissimi conduttori, tantissimi presentatori di livello, come lavorare con Flavio Insigne e Carolina di Domenico? Intanto partiamo per gentilezza e per cavalleria da Carolina che è la prima volta con cui collaboro anche sulla vota all'Eurovision ma insomma l'Eurovision erano le votazioni quindi non c'è stato modo di poter lavorare in una certa maniera qui devo dire che Carolina è una perfetta padrona di casa, precisa, non sbaglia un colpo, una sicurezza. Con Flavio ho fatto un programma che si chiamava 10 cose, Flavio è un attore, è una persona molto sensibile, molto rispettosa e che diciamo è prestato alla televisione come conduttore perché lo vediamo a fare i quiz ma lui fondamentalmente è un attore cinematografico e teatrale e sta dando il suo apporto come posso dire sentimentale a questo progetto. Nel corso della tua arriera hai lavorato, abbiamo detto, con tanti onduttori, tanti personaggi e quest'anno questi due onduttori ti trovi ad affacciarti a uno spettacolo e prevede un montaggio particolare perché come ben sappiamo andrà in onda in seconda serata su Rai2 una sintesi delle due serate. Dal tuo punto di vista quanto è diverso lavorare su una sintesi di due serate rispetto a una tradizionale diretta televisiva? In realtà più che la sintesi delle due serate c'è un coefficiente di difficoltà superiore che è quello di dover separare ciò che si fa per il pubblico dello sferisterio e quello che si fa per il pubblico della televisione. Quindi questo è anche per i conduttori, insomma vuol dire un doppio salto mortale. C'è un incastro fra ciò che dovrà andare necessariamente in televisione e quello che invece non ci andrà mai. Non è una sintesi di due serate ma è proprio non andare a prendere solo delle piccole cose che andranno nella serata televisiva. Quindi avere qualcuno come Carolina che in quel momento è molto precisa su snodi particolari mi aiuterà a poter incollare, cucire quello che ci serve per le due serate. A questo punto dopo due edizioni di musicultura, quale può essere la sfida per questa rassegna per fare un ulteriore salto di qualità? Io credo che sia solo una questione di decidere cosa deve diventare musicultura. Perché musicultura ha tutte le carte in regola per diventare veramente un concorso per voci nuove dal punto di vista cantautorale, dove in realtà non ci sono. Di solito i talent sono tutti interpreti la maggior parte. È solo una questione di prendere una strada. Se si vuole fare la televisione bisogna decidere di fare la televisione. Tutto qui. Le carte in regola e il musicultura ce l'ha. Torniamo dal punto di vista della te, insomma il dietro le quinte. Abbiamo visto già nella serata ieri alcuni tuoi marchi di fabbrica, come per esempio l'annuncio dei vincitori fatto di spalle al pubblico. Questo viene anche insomma da, diciamo, la tua firma nel racconto di queste serate. Ma quanto ti diverti a mettere queste perle, questi tuoi piccoli stere nel racconto generale? Diciamo che più, non so se chiamarlo firma di fabbrica, mettere il conduttore spalle o di tre quarti allo sferisterio per fare i lanci. Io credo che sia solo una questione di rispetto del luogo dove sto lavorando. Quell'inquadratura valorizza il luogo e quindi siccome l'avevo provata l'anno scorso e mi era piaciuto molto, quest'anno ce l'ho rimessa, diciamo, è un punto di rispetto, di racconto del luogo in cui mi trovo. Poi evidentemente il marchio di fabbrica è dato poi dal racconto del programma stesso, quindi usare i piani sequenza, non esagerare con gli stacchi, ma questo poi è un mio, è una mia maniera di lavorare. E questo tu non esagerare con gli stacchi l'abbiamo visto anche in un altro programma, è urato alla regia, come ci vuole un fiore, ricordiamo la amera fissa sulla sila con Francesco Abbani e cantava il corpo di ballo, quella è stata una meraviglia da vedere. Ti ringrazio, diciamo che mi rifaccio molto ai grandi maestri della televisione, lì dove posso cerco di replicare evidentemente con uno stile che sia del 2023, che sia di oggi, ma rispettando sempre non solo il luogo come faccio per esempio per i lanci allo sferisterio, ma anche per le persone che stanno sul palco, in quel caso sulla sigla di Gabbani, era molto bello il fatto che fosse tutto in piano sequenza e ci siamo riusciti. Perfetto, ti ringrazio ora una volta per la disponibilità, a lupo e buon divertimento per queste serate. Vive il lupo, grazie Beppe, grazie ragazzi.